Buongiorno e benvenuti al giorno numero 4 del nostro calendario dell'avvento. Sono Mirko del caseificio di Primiero e oggi vi presentiamo il nostro cesto sapore di malga Deluxe. Questa è una delle nostre nove proposte per il 2020 e vuole promuovere i nostri formaggi a latte di malga. All'interno troverete anche un piccolo kit per degustare i nostri formaggi e un inserto con un coltellino trentingrana. Il cesto contiene all'interno un pezzo di puzzone locale con latte di malga, un pezzettino di Primiero stagionato anch'esso latte di malga e infine un pezzettino di trentingrana medio sui 16 mesi come stagionatura sempre prodotto con il latte dei nostri alpeggi. Inoltre è presente una birra artigianale del birraficio Bionocce, Pali di San Martino che è una gluten free, un miele petterlini da 250 grammi alla vete e un pezzettino di specca le erbe e fiori di montagna della macelleria Bonelli. Quindi se siete interessati alle nostre proposte basta che clicchiate sul link in alto e scoprite il nostro mondo. Grazie a tutti e ci vediamo presto, ciao!